come si conquistano gli uomini a letto per una donna è importante riuscire a capire anche la tipologia perché non esiste un comportamento standard da mettere in atto con tutti per cui si riesce a capire la tipologia dire le tue modalità che possono passare dal dominante al meno dominante a rendere sicura dare in sicurezza e diciamo che ci sono varie tipologie di uomini e tu li puoi riconoscere il primo è il timido insicuro il timido insicuro è un uomo che diciamo non ha una grande sicurezza di se stesso e di fatto è anche abbastanza timido nel rapporto con le donne per cui bisogna per se vuoi sedurlo devi utilizzare una doppia fase nella prima fase devi apparire più dominante in modo tale da andare ad amplificare un po la sua insicurezza e poi gradualmente invece portalo a dominare un pochettino a diventa a prendere un attimino l'iniziativa a diventare a dimostrarti gradualmente di perdere sicurezza e di lasciare di potere in questo modo lo aggancerai quindi sia da un punto di vista diciamo emotivo oltre che da un punto di vista sessuale per cui lui potrà fare esperienze diverse e con te si troverà diciamo farà un'esperienza indimenticabile per cui non si dimenticherà più di te poi invece abbiamo l'uomo sicuro di sé e dominante è quello che diciamo manifesta da subito e si esibisce come maschio alfa maschio dominante per cui ostenta sicurezza e anche una certa modalità un po aggressiva nel nella relazione nel prendere l'iniziativa tieni presente che in questo caso devi utilizzare sempre l'aspetto duale tieni presente che è proprio il cambiamento quello che quello che seduce un uomo del genere perderà la testa per una che lo domina perché diciamo andrà a ragganciare situazioni che ha vissuto nell'infanzia in cui è arrivato lo scontro con la madre ma poi alla fine ne è stato sottomesso quindi in questa fase devi agire esattamente al contrario rispetto a ciò che hai fatto al timido insicuro devi lasciarti inizialmente dominare e poi invece prendere l'iniziativa ed essere dominante anche perché per una donna diciamo da un punto di vista sessuale è abbastanza è abbastanza semplice abbiamo poi il tipo cerebrale quello che diciamo si innamora molto di più desiderando di fare l'amore che facendo l'amore potremmo dire che ogni volta che lo fai si disinnamora un po perché lui ha bisogno di una situazione tutta mentale quindi diciamo devi innescare dei giochi che partono molto molto prima del rapporto del rapporto sessuale diciamo che il rapporto sessuale è un effetto collaterale da consumare ma non è quello che lo coinvolge tutto prima perché sono tutte le costruzioni mentali che lui si fa che riescono a produrre coinvolgimento e poi abbiamo diciamo un altro elemento che il tipo ansioso che è quello che ha sempre l'ansia da prestazioni quindi in questo caso devi utilizzare molta dolcezza per evitare che lui diciamo abbia un livello tensiogeno molto alto per cui non riesca diciamo ad avere delle prestazioni decenti decorose e quindi anche tu non avrai avrai scarsa soddisfazione diciamo e l'ultimo tipo è l'uomo selvaggio quello molto naturale che si esprime in modo un po animalesco in questo caso diciamo le prestazioni e il tipo di modalità è molto coinvolgente anche se ovviamente mancano quasi completamente i preliminari che sono invece una costruzione più che altro cognitiva che si esprime in modo istintivo diciamo che va subito al dunque quindi ha bisogno di un certo training e un certo insegnamento per imparare nuove modalità bene per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ti invito a seguirmi sul blog http www.seduzionev.com ciao